Perché secondo lei nei suoi confronti c'è una ferocia che non è paragonabile a quella che c'è nei confronti di altri? Il mio comportamento è odioso, è stato odioso, è stato bruttissimo e per questo voglio e devo assolutamente pagare e quindi anche moralmente condannabile, forse soprattutto moralmente condannabile. Grazie a tutti.